Nessun bambino, oltre a mio figlio, è stato sfruttato, in questo video. Tutte le Smarties, sono state liberate, alla fine del video. Bello a tutti ragazzi, bentornati nell'Arte Graffa Lab, chiudi lì, 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 Vabbè, dopo tagliamo, allora quando io ti guardo l'Arte Graffa, io devi dire pure l'Ambra. Vabbè, aspetta! No, guarda! Sì? Senti con il terzo! Ma te vorrei capa, ripa, ripa... Lab! Dai, prendo un Pabara. Bello a tutti ragazzi e bentornati nell'Arte Graffa! Lab! Non lo so di questa maschera. Siamo qui oggi per un... Oggi che fanno? No, lei rippa! Dai, facciamo! Bene a tutti ragazzi e bentornati nell'Arte Graffa! Allora! Siamo qui oggi con un ospite speciale, non posso ancora rivelare il suo nome. Adesso lui si toglierà la maschera e vi dirà chi è. Sono io! Siamo qui con Emanuele, oggi il mio assistente, nuovo assistente del canale che ci aiuterà a fare i video e a disegnare. Oggi assistente cosa andiamo a fare? Starcast! Assistente, oggi cosa disegneremo? Il pacchetto delle Smarties. Ecco qui, ora lo mostro in camera. Oggi andiamo a fare il logo delle Smarties. Andiamo a creare un nuovo... Foglio. Grande! Lo facciamo al quadrato. Allora, lo sfondo, eccolo che facciamo. Foglio. 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 Dopo ce la rivediamo? Certo. Un bel montaggio. Sì, però prima la vediamo che tutto intero come si parla. Sì, la regala. Foglio. Foglio. Dai, riportiamo. Allora, questo blu va bene, secondo me. Sì. Sì. Da, voulo. Sono un bel rave. Sì. Sì, sei ne adesso. Sì. Sì, è l'hero. Come ci siamo tutti stessi, io ci ho chiamo. Signora Mattis, anche se non ci ha pagato per fare il video, se vuole, noi siamo propensi a intrattenere una collaborazione. Cioè ogni volta che fanno un video devi passare a lui, senta. Ho iniziato a toccare lì, per favore. Anzi, sai, ho fatto un saccano, questo è tanto insolverso. Guardate il contorno, se l'avete a farlo, ho detto il contorno dell'elettore. Bobbara. Tanto Emanuele disegnavolo lì, insomma, iscrivetevi al canale e lasciate un like. A noi ci fa piacere, perché se fate crescere un po' il canale, sai come? Se volete il prossimo video, 100.000 like! Scrivete pure nei commenti come sta avvenendo il disegno. E benvenuti in questo nuovo video di Atteca, falla! Adesso vai io? Vabbè. Sì. Grazie. Però lo devi fare, che non arrivi fino a fondo, capito? Tipo così. Quindi scrivete pure nei commenti il prossimo disegno da fare. Ecco, scriveteci nei commenti se vuoi disegnare qualcosa in particolare, così noi nel prossimo video facciamo le vostre richieste. Ciao! 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 E scrivete nei commenti se vi piacciono le Smarties! R법uralsan Sì, però a me è male il Smarties nel sapphà americano! La pretta, addi! Buon'altro! Alla prossima! го! Ok! Mi sono scuogliato, quindi mi manca. E' un barco. Se fate nei pivi? Sì. No, faccio cosentico, mi sgranocchi senza soffrire. Non mi offri a me. Tu. Ma adesso smacchi. Sono finite. Pugono finire. Sì. Sperto con lo sanno. Sperto con lo sanno. Sperto con lo sanno. Sì! Sì, va bene! Sì, va bene qua! È brava farne voi? È brava! Brava, non c'è la via! Ok brada, non piace dunque. Link in descrizione del taglet. C'è un po' di ombre. Ombre de chicco. Mucho chicco. Un po' di ombre. Un po' di ombre. Quanti acqua? Saremmo a 100.000 like faremo la 24 per i disegni ma nel disegnere per 24 ore. Mi raccomando nei commenti scrivete quali disegni potete vedere e noi li rifacciamo per poi. Allora io direi che qui il disegno dovrebbe andare bene, che dici? E se volete fare questo disegno è facilissimo. Quindi se volete provare, non per forza le smart, se quello che vi pare potete disegnare. Sì potete disegnare tutto, ci taggate su Instagram e lo ricondividiamo nelle stories. Link in descrizione di Instagram. Cogno! Ci siamo? Sì. Siamo arrivati alla fine del video. Allora ragazzi per questo video è tutto, abbiamo fatto il logo delle Smarties, se vi è piaciuto lasciate un like, commentate qui sotto i disegni che volete vedere per i prossimi video. E tutto quello che abbiamo detto di commentare. E tutto questo eh? A te graffa! Bella frate! Aspetta, dobbiamo fare... E io? Campanellina! Campanellina, tutta la vita! Per essere aggiornati ogni giorno! Un video a settimana mi raccomando campanellina! Iscrivetevi, like, commenti! Ciao! Ciao!